Qui poi mi dovete consentire di fare la parte ancora una volta del Ministro della Salute, perché la pandemia non è conclusa. Noi siamo usciti dallo stato d'emergenza, siamo sicuramente in una fase molto diversa da quella del passato, ma come sapete voi meglio di ogni altro, e a me capita di parlare ogni tanto con qualcuno di voi e me lo segnalate spesso, il virus non è scomparso. Il numero dei contagi è ancora un numero significativo. Ci sono persone che sono a casa, a me perché in isolamento. Oggi abbiamo oltre un milione di persone nel nostro Paese, un milione di 200 mila che hanno il Covid. Alcuni, molto meno di prima, grazie ai vaccini, finiscono ancora in ospedale, sono nelle nostre terapie intensive. Purtroppo persone perdono la vita. Qualcuno dice, ma sono meno di prima, ok, bene, è importante, ma ancora ci sono. Purtroppo persone perdono, grazie ai vaccini, finiscono ancora in ospedale. Grazie.